60 identificazioni al giorno e 62 arresti in 7 mesi. Sono solo alcuni dati illustrati dal questore della Spezia nel corso del bilancio della vasta operazione antidroga North and South, nel corso della quale si è focalizzata anche su tutti gli interventi condotti dalla questore della Spezia e dal commissariato di Sarzana. Questa vasta operazione antidroga ha messo in evidenza la drammaticità della dipendenza, ha detto, ed è anche per arginare questo triste fenomeno che i servizi di controllo sul territorio sono stati intensificati. Da gennaio a luglio sono state identificate 12.590 persone, una media di 60 al giorno. Nei controlli rientrano anche 29 cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. 21, ha detto il questore, sono stati accompagnati al CPR 1 alla frontiera. In questi sette mesi non sono mancate le misure speciali, ne sono state emesse 82. Inoltre sono state indagate 363 persone ed eseguiti 62 arresti. Stiamo portando avanti un tracciamento serrato per dare le risposte giuste a questo territorio. Il questore poi ha voluto rimarcare la vicinanza della Polizia di Stato alla popolazione. I cittadini non devono sentirsi inascoltati. Dal numero unico delle emergenze abbiamo ricevuto 7.436 chiamate. Un terzo delle segnalazioni che riceviamo determinano un intervento.